Buongiorno e bentrovati. Nel video di oggi verrò di rispondere a alcune delle domande e dei commenti che mi sono arrivati negli ultimi tempi. Non ve la prendete se il commento che magari rispondo non sarà il vostro, però l'ho preso giusto alcuni perché sennò viene un video troppo lungo e poi ho cercato di prendere quelli che mi sembrava che avessero un pochino più rilevanza o magari a quelli che non avevo già risposto nei commenti o per e-mail, a chi mi ha scritto per e-mail, eccetera. Una cosa importante che vi voglio ricordare è mandatemele questi messaggi. Nel senso, per me prima di tutto è motivo di stimolo per magari trovare degli argomenti con cui poi costruirci dei video che possono essere più o meno interessanti per tutta la community che ci segue. E poi possono essere anche domande che magari per voi lì per lì non volete fare perché vi sembrano stupide, però vi ricordo che domande stupide non ce ne sono, ci sono eventualmente solo risposte che possono essere stupide. Quindi anche quelle domande che magari vi sembrano così, diciamo, magari fuori dalla normalità, ecco, fatemene lo stesso. Eventualmente, se non è una cosa che può interessare molti, vi rispondo o dentro YouTube, nei commenti, oppure per e-mail, se mi avete scritto per e-mail, però comunque vi rispondo, io rispondo più o meno sempre a tutti. Bene, vediamo a noi. Primo commento, Nadia mi scrive, allora il commento è relativo al video dell'ultimo, cioè l'ultimo video che ho fatto in cui vi faccio vedere come si monta a cavallo, diciamo i due più uno errori che si commettono quando si monta a cavallo, quelli più diffusi poi ce ne sono anche altri, e Nadia mi chiede, grazie Sergio, come sempre i tuoi consigli sono utilissimi, ma domanda, se abbiamo un cavallo molto alto, è giusto usare lo sgavello per salire o rifarsi ad una trave che troviamo per terra o altro? Allora, questa inizialmente potrebbe sembrare una domanda la cui risposta è ovvia, in realtà l'ho proprio presa a proposito perché è una cosa che tendenzialmente può in qualche maniera sembrare ciò che non è. Mi spiego meglio, posso salire sul cavallo perché ho qualche impedimento, oppure perché non sono particolarmente atletico, oppure perché il mio cavallo è alto, posso usufruire dei, in inglese li chiamano mountain block, cioè qualsiasi cosa che possa essere utilizzato come blocco, come sostegno per montare. Potrebbe essere la recensione, potrebbe essere un bancale per terra, potrebbe essere appunto un mountain block che si comprano apposta con gli scalini per salire sul cavallo, può essere qualsiasi cosa, potrebbe essere anche un tronco di un albero che troviamo fuori, una roccia, eccetera. Perché è importante ricordarti questa cosa qua? È importante ricordarselo perché per il cavallo, non solo il cavallo alto, e non solo per quelle persone che magari hanno qualche tipo di disabilità, per cui non sono così atletiche da poter montare su un cavallo o altro, ma anche per un cavallo giovane o una cavalla incinta, per esempio, sarebbe opportuno portargli un po' di rispetto. E qualora ce ne sia la possibilità, è sempre opportuno salire, non da terra, ma magari da un'altezza, diciamo, un po' maggiore, in modo da gravare meno sulla schiena del cavallo e soprattutto aggrapparsi meno alla criniera, al pomello, alla sella, per tirarsi su, ok? È una cosa ovvia, però vedo poche persone che lo fanno. E questa è una cosa che mi fece notare una volta proprio il figlio di Pat, Ketton, quando ero in Colorado. È una cosa che tante volte noi ci dimentichiamo, però anche un cavallo giovane, oppure un cavallo che non è ancora completamente strutturato, anche da un punto di vista fisico sto parlando, per poter reggere uno sforzo del genere, quando saliamo, se io sono 100 kg e il mio cavallo è 400 kg, comunque io sono un 25% del suo peso, quindi non sono qualcosa, non sono una piuma, ok? Quindi anche in quel caso lì, se magari sono di fronte a una situazione in cui il cavallo non è particolarmente dotato da una struttura che rega bene lo sforzo, oppure un cavallo particolarmente giovane che si potrebbe impressionare, no? Se io salgo su in maniera così repentina, aggrappandomi a lui, ecco, anche in quei casi lì, mi raccomando, usate un mounting block, in modo da rendere tutto molto, ma molto più semplice e anche confortevole per il cavallo. Altra domanda, sempre relativa allo stesso video. Laura mi chiede, ciao Sergio, grazie per il video, come sempre molto utile. Alcune domande. Come mai si afferra la criniera oltre alle redini? Bene, intanto mi fermo su questa. Come mai si afferra la criniera oltre alle redini? Perché nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si dovesse scivolare con il piede dalla staffa, non andremo a dare un tirone nella bocca del cavallo, perché siamo aggrappati a qualcosa di solido, come è appunto la criniera del cavallo. Poi si dice che la criniera del cavallo potrebbe essere tranquillamente anche il collo, non è un problema. Basta prendere un ciuffettino di peli e reggersi bene, in modo che se per qualche motivo si scivola, il cavallo si muove, si esce fuori i piedi dalla staffa, eccetera, non andiamo a cadere in avanti e andiamo a tirare un tirone nella bocca del cavallo. Questo è il motivo per cui si cerca di prendere la criniera. E anche per facilitarci un po' nel salire, perché ci dà un punto di riferimento preciso e fisso. Successiva domanda, sempre dello stesso commento, è raccomandabile fare sempre i due prerimbalzi prima di salire, oppure non importa? Bene, i due prerimbalzi prima di salire, i prerimbalzi sono quelli che facciamo con l'altra gamba, quindi con la gamba che rimane per terra, per darci la spinta per salire sulla sella. Ecco, in quel caso lì sono importanti, non sono importanti, sono importantissimi, perché ci danno la possibilità di togliere un po' di chili dallo sforzo che andiamo a fare con l'altra gamba, perché io ho una gamba che è sulla staffa e un'altra gamba che è in terra. La gamba che è in terra, se con quella riesco a darmi un bello slancio, ecco che con la gamba che rimane sulla staffa posso aggiungere giusto qualche chilo per finire la mia salita verso la sella del cavallo. Se non lo faccio, mi devo tirare su praticamente spingendo tantissimo con la gamba della staffa e magari anche tirandomi sulla sella, come ho fatto vedere nel video, tirandomi con la mano che va alla criniera o dall'altra parte all'arcione. Quindi è veramente molto importante imparare ad usare i due rimbalzi, o due, tre, e quelli che vi pare a voi. Fra l'altro, in un altro video che ho fatto un po' di tempo fa, dove faccio vedere due modi di montare a cavallo, nel secondo modo di montare a cavallo faccio vedere come si può ancora più amplificare l'uso della gamba che rimane per terra proprio per darci un po' l'aire per salire senza andare a gravare troppo sul cavallo o a farlo spostare. L'ultima domanda, sempre dello stesso commento di Laura, è per il cavallo è meglio se stacco da terra il secondo piede e lo carico lentamente oppure velocemente. Beh, la risposta l'ho già data. Bisogna staccarlo da terra velocemente per darci una bella spinta e usare al minimo lo sforzo che andiamo a fare con l'altro piede che abbiamo dentro la staffa. Andiamo ancora avanti. Ci abbiamo una domanda che mi ha fatto Gabriella. mi dice, questa è per email. Ciao Sergio, con i cavalli che alla corda con l'umano di fianco tendono a tirarsi in piedi anche solo mezzo salto, non a candela. Si sentono vicino un'energia troppo alta data da un cavallo vicino o un cavallo che si allontana rapidamente. Quali sono gli esercizi da fare? Bene, allora, il primo esercizio da fare è domandarsi per quale motivo lui non è referenziato a noi. Vi spiego meglio. Mi avete sicuramente sentito parlare, ci ho fatto qualche video, chi di voi ha fatto qualche corso, gli faccio una testa così da tante volte che lo dico. Noi vogliamo che il cavallo sia, prima di tutto, calmo connesso e che risponde. Cioè, cosa significa calmo connesso e che risponde? Vogliamo che sia preoccupato, nel vero senso della parola, preoccupato, cioè sia occupato principalmente da noi, ok? Lui si deve preoccupare di noi, non deve pensare ad altre cavolate che gli succedono d'intorno. Quindi quella è la prima domanda che dobbiamo porci, è per quale motivo lui, invece di pensare a noi, pensa ad altri, o pensa ad altri cavalli, o pensa ad altri stimoli che gli possano arrivare dall'esterno. Dobbiamo, prima di tutto, preoccuparci di cercare di capire dov'è che siamo nella scala gerarchica del rapporto con il nostro cavallo. Perché se lui non ci considera, probabilmente non siamo sopra, ma siamo sotto, o magari, se ci va bene, di fianco. Detto questo, in quel caso specifico lì, mi viene in mente il groom che porta il cavallo al paddock, dal box, in quel caso lì bisognerebbe che il groom avesse un attimino studiato il programma parelli. Perché se andate a riprendere da un video che ho fatto un po' di tempo fa, vedete che c'è un esercizio che si chiama foglia cadente. Il video è un video pubblico, quindi lo potete vedere tutti, anche chi non è abbonato, e si chiama, se non ricordo male, come insegnare al cavallo la foglia cadente, una cosa del genere. E magari ve lo metto qua, in alto a sinistra, così ve lo recuperate velocemente. In quel video lì vi faccio vedere come si fa appunto il controllo della spalla e delle posteriori del cavallo in un esercizio che il cavallo si muove davanti a noi con un arco e va via da noi. Quindi noi camminiamo davanti e il cavallo davanti a noi cammina creando una sorta di mezzo circolo e cambia sempre direzione. Quella è la cosa da fare in questi casi qui. Quando il cavallo tende a tirarsi su, la prima cosa che dobbiamo fare è mandare via la spalla e metterlo in una sorta di foglia cadente. Il circolo non è bello, non è diciamo utile in quel senso lì, in quella situazione lì, perché tende a far correre ancora di più il cavallo. Mentre lo spostamento delle spalle e delle anche in maniera molto veloce e tutta di seguito tende a far, prima di tutto, focalizzare molto il cavallo su di noi e distoglierlo dagli stimoli esterni perché ovviamente noi stiamo chiedendo qualcosa e poi tende a far sì che il cavallo debba pensare molto di più a come si muove lui rispetto a ciò che sta succedendo dintorno perché in quel momento lì lui è troppo impegnato a pensare a incrociare i posteriori o incrociare l'anteriore e seguire le nostre indicazioni. Ricordatevi sempre che tutto ciò che fa sì che il cavallo incroci le gambe lo porta a dover mettere tanto impegno e quindi tanta concentrazione su se stesso e lo distoglie da quello che può essere gli stimoli esterni che lo stanno facendo andare in adrenalina. Questo il motivo è perché i cavalli non hanno una grandissima propriocezione degli spostamenti degli arti e di conseguenza quando gli facciamo incrociare soprattutto il posteriore loro non potendo spingere in avanti devono pensare per non colpirsi a fare dei passaggi precisi e puliti e questo li porta a rientrare un po' si dice in bolla no a ridiventare un po' centrati. Questa è la cosa che va fatta. Poi chiaramente se una persona non ha quelle competenze lì è probabile che cada nell'errore di mandare indietro il cavallo cosa che invece peggiora la situazione. Per quale motivo peggiora la situazione è perché un cavallo che vuole correre e noi lo blocchiamo davanti tende per forza di cose a andare su e quindi ad impennarsi. Poi ci sono dei motivi a volte ci sono delle situazioni in cui il cavallo si impenna a prescindere ma perché magari gli è stato insegnato prima in altre circostanze che facendo a quella maniera magari si libera. Mi è capitato un cavallo che si impennava e quando tornava giù con una gamba colpiva la corda che lo teneva in modo che con tutto il suo peso dava un bello strattone al cavaliere che in quel momento lì aveva la corda in mano la lunghina in mano e chiaramente probabilmente in alcune situazioni aveva funzionato gliela tirava via di scatto dalle mani e lui si liberava e andava via pe cavoli sua. Quello fa sì che poi il cavallo si impegni anche quando realmente io non sto bloccando la parte davanti del cavallo è semplicemente qualcosa che lui ripete perché in varie situazioni pregresse gli ha dato un risultato positivo. Ricordatevi con questo apro una parentesi ricordatevi che i cavalli imparano sempre schemi per loro positivi. Cioè il cavallo impara sempre roba che lo porta da una situazione di scomodità a una situazione di comodità oppure da una situazione peggiore a una situazione migliore che potrebbe essere corro situazione peggiore sto fermo situazione migliore oppure sto mangiando il fieno vado a mangiare la carota ok? Cioè è sempre una situazione che cambia andando da una situazione peggiore in una situazione migliore. Gli schemi i cavalli li imparano sempre a questa maniera sempre non c'è un'altra maniera con cui i cavalli come del resto anche noi imparano le abitudini le abitudini sono sempre e ricordiamoci che sono sempre abitudini quelli che noi diamo al cavallo quando noi adestiamo un cavallo gli diamo delle abitudini ok? Quindi tutte le abitudini un cavallo le impara perché le porta lo portano a una situazione migliore rispetto alla precedente tutti gli schemi anche quelli che per noi sono negativi per il cavallo per come li vede lui sono positivi quindi se il cavallo impara a fare in una determinata maniera come appunto quella di cui parlava Gabriella dell'impennarsi è facile sì che ci sia che la miccia venga accesa dalla situazione che ha dintorno magari un cavallo che scappa magari un cavallo che chiama magari un'euforia dovuta al vento dovuta a mille cose però il comportamento che lui applica in quella situazione lì all'inizio può essere casuale ma se poi dopo diventa una ripetizione che nel tempo si vede che il cavallo tutte le volte fa a quella maniera vuol dire che lì c'è un'abitudine o un'abitudine che si sta innestando in quel dato momento a furia di ripeterlo o magari un'abitudine che viene da lontano un'abitudine che gli è stata data in maniera magari anche casuale negli anni precedenti o nei mesi precedenti insomma le volte precedenti che è stato gestito ma vuol dire che lì si sta instaurando un'abitudine perché facendo a quella maniera lui ne trova beneficio altrimenti no andiamo a parlare ora dell'ultimo commento questo commento qui è sotto il video del cavallo che non si faceva prendere se ve lo ricordate un cavallo un gipsy pezzato in cui faccio vedere un po' come fare il catching game anche questo ve lo metto in alto a sinistra così poi magari ve lo riandate a vedere se non l'avete ancora visto mi scrive ciao Sergio molto bello questo video ma con uno dei miei cavalli a 9 di 16 anni questo non funziona lei viene da me sempre si fa carezzare io addirittura la abbraccio perché lei è molto buona ma se ho un qualsiasi laccio o corda nonché capezzina non c'è verso che si avvicini ho provato in uno spazio ristretto dopo qualche galoppo e trotto viene da me come un'agnellina e si fa mettere la capezza ovviamente la premio la carezzo e non le chiedo alcun lavoro ma nel paddock è sempre lo stesso schema appena vede la capezzina o la corda soltanto scappa sicuramente lei ha lavorato tanto prima di venire da noi nelle gare di completo e quindi credo che associ capezza lavoro lavoro stress ma ormai è con noi da qualche anno e non riesco a cambiarle questo schema c'è un tuo consiglio che io possa provare mi piacerebbe tanto non dover dire lei è così per prenderla devi usare mangime o chissà cosa poi è molto intelligente e se capisce che le dai il mangime nel box per mettere la capezzina neanche entra beh allora è proprio perché è molto intelligente no? quindi di solito i cavalli difficili sono anche molto intelligenti perché imparano talmente velocemente che imparano anche degli schemi che magari noi non vorremmo insegnargli ma che casualmente hanno imparato quindi che ti devo dire allora la prima cosa che ti posso dire è che quando te dici sono anni che è con noi significa poco nulla perché per togliere una brutta abitudine per chi di voi magari ha studiato un pochino il riflesso condizionato il condizionamento gli esperimenti di Pavlov eccetera sa che c'è la possibilità di inibire un riflesso condizionato ok riflesso condizionato perché non lo sapesse si tratta di un qualcosa cioè un che potrebbe essere un atteggiamento un movimento addirittura potrebbe essere anche semplicemente la salivazione come appunto negli esperimenti di Pavlov che avviene in sequenza cioè a seguito di uno stimolo uno stimolo che può essere di qualsiasi genere può essere uno stimolo visivo tattile un odore un qualsiasi cosa ok quindi al momento che noi parliamo di inibizione di un riflesso condizionato parliamo di tempo ci vuole un sacco di tempo perché dobbiamo esattamente ricreare le stesse condizioni ma l'esito deve essere diverso ve lo spiego con un esempio perché è più semplice ritornando al discorso di Pavlov di questo scienziato che aveva studiato questo comportamento dei cani che iniziavano a avere la salivazione al momento che sentivano una campanella all'inizio gli portava il cibo e gli faceva sentire la campanella dopo solo facendogli sentire la campanella i cani iniziavano a salivare quello lì è un riflesso condizionato ok quindi il processo con cui andiamo a creare questa cosa si chiama addestramento e poi alla fine abbiamo il riflesso condizionato che è ciò che i cavalli facevano aveva sostituito il cibo con il suono prima associandolo poi lasciando solamente il suono i cavalli facevano la stessa cosa del cibo ok quella cosa lì la puoi togliere come la metti la togli come facendo un processo simile che porta appunto alla inibizione del riflesso condizionato come facendo ascoltare il suono al cane ma non dandogli nulla quindi suono niente cibo suono niente cibo suono niente cibo piano piano quello che otteniamo è che abbiamo inibito quel tipo di riflesso nel caso di questa cavallina è chiaro che lì c'è un riflesso condizionato ok che è stato dovuto da una sequenza probabilmente di magari che è durata anni non lo so a questo punto a 16 anni la cavalla in cui sono state fatte male una serie di cose cosa significa che sono state fatte male magari giustamente come dice la nostra amica ogni volta che il cavallo veniva preso veniva sottoposto a uno stress importante quindi per lui c'era un segnale che partiva dal mettere la capezza e finiva con lo stare male subire tutta una serie di stress che probabilmente iniziavano da subito dopo messa la capezza probabilmente non iniziavano nemmeno da un po' di tempo dopo probabilmente già subito dopo messa la capezza iniziava tutta una serie di situazioni che erano diciamo che mettevano il cavallo a disagio ok perché dico subito dopo perché se fosse stato dopo molto non riusciva ad associare la cosa ok se io metto la capezza al cavallo ora ma lui subisce qualche stress fra un'ora e nel mezzo ci sono state tante cose positive capite bene che non è che la può associare ok mentre se io metto la capezza e già fin da subito il cavallo è accanto a una persona nervosa che magari non è non è equilibrata non è centrata a dei problemi di gestione della rabbia o tende a essere nervosa semplicemente perché ha paura cioè queste cose non si sanno il fatto sta che il cavallo sente questa roba qua e gli dà fastidio un po' come noi ci dà fastidio stare accanto a una persona che è sempre arrabbiata che risponde sempre male che è sempre agitata oppure che è sempre ansiosa queste sono cose che ci danno noia a noi perché non devono andare a noia a un cavallo il cavallo non ha la nostra intelligenza ricordatevi sempre un miliardo di neuroni quelli del cavallo contro i nostri 82 miliardi però sono animali estremamente sensibili probabilmente anche perché non hanno tutta l'intelligenza che abbiamo noi e di conseguenza hanno meno filtri quindi questa roba qua è normale che venga associata e il cavallo abbina poi l'essere preso messo in capezzato con una situazione spiacevole ok e lui non vuole essere più preso come faccio a toglierla questa roba qua per dirla semplice devo ricreare le stesse esatte condizioni e per un numero veramente probabilmente veramente alto di volte devo cancellare quella situazione che invece lei ha vissuto in precedenza e come beh lì si possono usare tante tante diciamo maniere però fondamentalmente si tratta di una cosa che dico sempre che è la più facile da applicare è quella di prendere il cavallo come per esempio descrivi te in un spazio piccolo mettendo un pochino di pressione come facevo vedere io nel video e aspettando poi dopo che il cavallo venga da noi come di fatto ci hai descritto no nel commento che hai scritto e quindi io direi che diversamente da come avevi scritto all'inizio ciao Sergio molto bello questo video ma con uno dei miei cavalli a nove questo non funziona direi invece che funziona funziona anche con lui perché funziona con tutti i cavalli la cosa che devi fare è perseverare 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 ogni volta che fai a quella maniera il cavallo ti si avvicina gli metti la capezza lo porti fuori e ad esempio gli dai un premio quindi che potrebbe essere un miglior cibo magari gli dai una ciottola con un pochino di mangime e questo lo fai sempre ogni volta cioè non c'è una volta in cui te non lo fai devi ogni volta che la prendi fare a questa maniera se è dentro il box devi fare la stessa cosa mi hai scritto qui è molto intelligente e se capisce che le dai il mangime nel box per mettere la capezzina neanche entra non dovete mai dare prima il premio mai è sempre dopo se no non è un premio ma diventa una tangente quindi in questo caso assolutamente te prendi la cavalla fuori se lei non entra nel box la prendi fuori come hai fatto e come hai visto che ho fatto io mettendo un po' di pressione creando rilascio quando si avvicina eccetera poi la prendi metti la capezza la porti ad esempio dentro il box e gli dai il mangime poi cosa fai a questo punto niente la rilasci libera cioè deve finire lì la cosa non deve essere associato a nient'altro se non a una bella sensazione o magari la prendi e ci vai a fare una passeggiata a mano portandola a mangiare l'erba cioè dovete imparare ragazzi che questi cavalli dovete cominciare a considerarli più animali e meno oggetti e quindi dovete passare del tempo con loro anche senza chiedergli nulla poi arriverà il momento in cui gli chiedete qualcosa ma come dice parelli il rapporto deve essere 80-20 cioè 80% passo insieme del tempo senza chiedere nulla 20% passo del tempo a chiedere qualcosa ok cosa che non normalmente si fa al contrario mentre con il cane invece si fa esattamente così si sta un sacco di tempo insieme al cane senza chiedere nulla e poi gli si chiede pochissimo invece con i cavalli è tutto l'opposto ok tanto se no mi ripeto perché queste sono cose che ho detto miliardi di volte però fondamentalmente dobbiamo cominciare a capire che qui si tratta semplicemente di un riflesso condizionato e per toglierlo devo ripetere tante 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 volte lo stesso inizio quindi lo stesso stimolo che mi porta invece a un esito diverso e quindi piano piano cosa faccio faccio una inibizione di quel tipo di comportamento quanto ci vorrà di solito si parla di nove volte le volte che ci sono volute per metterlo pensate un po' se questa cavalla gli è stato fatto un rinforzo per cento volte probabilmente io devo per mille volte fare la stessa cosa magari no magari non è così perché poi i cavalli sono molto intelligenti e riescono spesso e volentieri a meravigliarci però è un po' per farvi capire che in certe situazioni in effetti è solo il tempo che ci dà poi dopo la risposta definitiva ai nostri dubbi ok bene ragazzi spero che queste risposte vi siano piaciute o almeno le abbiate trovate interessanti se fosse così vi ricordo ancora una volta che questo canale si regge in piedi attraverso un sistema di abbonamenti per cui anche tu in questo momento che magari non sei abbonato e non sei neppure iscritto stai guardando questi contenuti grazie invece ai quasi 300 abbonati che ci sono in questo momento sul canale quindi se hai piacere di continuare a vedere questi contenuti free liberi per tutti magari non vuoi abbonarti non è un problema ma almeno lascia un mi piace e iscriviti al canale in questo momento esatto guardato pochi minuti fa circa il 76% il 66% scusate il 66% di quelli che guardano il canale e guardano fate conto che il canale viene visto più o meno a circa 250.000 visualizzazioni al mese ok di tutte quelle visualizzazioni il 66% arrivano da persone che guardano video ma non sono iscritte ok per cui se ti piace questi contenuti e magari ti piace che io possa rispondere a delle domande che mi fate nei commenti mi mandate per email magari un click su iscriviti fallo perché a te non ti costa assolutamente niente è solo un click ma per noi vuol dire tantissimo perché l'algoritmo di youtube lo vede e propone questi video sempre via a più persone è il canale che oggi in questo momento è intorno ai 16.000 iscritti magari nei prossimi mesi potrebbe crescere molto di più e quando si comincia a essere 50 60 80.000 iscritti allora si può dire che veramente stiamo cambiando la mentalità di tanti cavalieri italiani che o magari diciamo abbiamo dato modo a tanti cavalieri italiani che vogliono approcciare il cavallo in maniera differente di trovare un posto dove riunirsi ritrovarsi e cercare di imparare un po' di cose grazie ancora per avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo in un prossimo ci vediamo was finally over you, but that's not the truth everyone always keep falling in love again, the fuck's wrong with them, I don't understand maybe it will pass by, someone save me, for I pass out, I'm too lonely to be dynamometric at this pace